In questo podcast vogliamo capire con quale velocità si muovono gli elettroni di conduzione all'interno di un conduttore metallico percorso da corrente. In un filo metallico noi sappiamo che gli atomi sono impacchettati in una struttura regolare detta reticolo cristallino che è costituita da ioni positivi. Gli elettroni che sono stati liberati dagli atomi del metallo e condivisi insieme agli altri ioni si possono spostare all'interno di questo reticolo liberamente e per questa ragione sono detti elettroni di conduzione. Si comportano un po' come se fossero le molecole di un gas per cui si parla a volte di gas di elettroni o mare di fermi proprio perché è stato fermi il fisico italiano che ne ha descritto le proprietà. Normalmente il moto di agitazione termica come si vede nella parte sinistra della figura porta gli elettroni a muoversi in tutte le direzioni, urtando così gli ioni del reticolo. Lo spostamento medio degli elettroni è nullo e questo non crea praticamente nessuna corrente elettrica. Quando invece scorre una corrente perché il filo è sottoposto a una differenza di potenziale, all'interno del filo si genera un campo elettrico che sposta gli elettroni verso il polo positivo, cioè nel verso opposto a quello del vettore campo elettrico. E così al moto disordinato di agitazione termica degli elettroni si sovrappone un moto ordinato lentissimo degli elettroni liberi verso i punti a potenziale maggiore. La traiettoria di ogni singolo elettrone è quindi il risultato dell'accelerazione costante che esso subisce a causa del campo elettrico e delle brusche frenate dovute agli urti contro gli elettroni del reticolo cristallino. Vogliamo ora calcolare quale sia la velocità media con cui si sposta questa nuvola di elettroni, una velocità che chiamiamo velocità di deriva e indichiamo con la lettera Vd, col simbolo Vd. È evidente che se nel metallo non è presente un campo elettrico, come succede quando il metallo è in equilibrio elettrostatico, la velocità media è nulla e quindi anche l'intensità di corrente è nulla. Se invece nel filo metallico c'è un campo elettrico, vogliamo dimostrare che la relazione fra l'intensità di corrente e la velocità di deriva è data da questa formula, piuttosto semplice da ricordare. Si può ad esempio pensare a I come vena oppure nave, un modo diciamo facile per ricordare questa formula, dove naturalmente E rappresenta la carica elementare. A è l'area della sezione trasversale del filo, Vd è la velocità di deriva ed N è il numero di elettroni di conduzione per unità di volume, che è diverso da metallo a metallo. Ad esempio nel rame c'è ad esempio l'equivalente di circa 8 per 10 alla 28 elettroni di conduzione per ogni metro cubo di materiale. La velocità di deriva, come si può ricavare da questa formula, è molto bassa. Prendiamo ad esempio un valore tipico per la corrente che scorre in un filo, un ampere, e supponiamo un filo di rame di una sezione ordinaria, anche piuttosto grande, un millimetro quadrato. Utilizzando il valore di N che ho citato prima, si arriva a calcolare una velocità di deriva di 7 per 10 alla meno 5 metri al secondo. c'è una velocità piccolissima. In pratica si può calcolare che in un'ora gli elettroni percorrono in media qualcosa come 30 centimetri di filo. E quindi una velocità piccolissima rispetto a quella di agitazione termica, che invece è dell'ordine di 10 alla quinta metri al secondo. Vediamo come sia possibile dimostrare questa formula. Prendiamo in considerazione una sezione del filo percorso da corrente e immaginiamo che gli elettroni si muovano nel verso opposto alla corrente, il verso convenzionale che va dal più al meno, e supponiamo per semplicità che tutti si muovano con lo stesso valore della velocità di deriva. per calcolare una corrente noi dobbiamo valutare, presa una sezione trasversale del filo, quanta carica attraversa quella sezione in un determinato tempo ΔT. È evidente che solo gli elettroni che si trovano a una distanza da questa sezione tale da permetter loro di passare nel tempo ΔT potranno essere conteggiati e non lo saranno tutti gli altri che si trovano al di fuori di questa zona. Quindi solo gli elettroni che riusciranno nel tempo ΔT ad arrivare attraverso la sezione che noi stiamo considerando potranno essere conteggiati come cariche che hanno attraversato la sezione. E ovviamente i più lontani che riusciranno ancora in extremis a passare attraverso questa sezione sono quelli che si trovano in un cilindro di area di base A e che si trovano a distanza dalla sezione pari alla velocità di deriva per ΔT. Infatti muovendosi a velocità costante V per ΔT mi dà lo spostamento effettuato e quindi solo quelli che si trovano al massimo a distanza V ΔT dalla sezione riusciranno ad attraversarla e essere conteggiati. Veniamo dunque al calcolo dell'intensità ricorrente. L'intensità ricorrente è data dal rapporto fra la carica che ha attraversato la sezione in un certo tempo ΔT e l'intervallo di tempo stesso. Ma la carica sarà data dal numero di elettroni che sono passati, quindi dal prodotto di E, carica elementare, carica dell'elettrone, per N, numero di elettroni totale che è contenuto in quel cilindro degli elettroni da conteggiare ai fini della carica. Il numero di elettroni dipende naturalmente dal volume di questo cilindro che è fornito dalla formula A, area della sezione, per V di deriva per ΔT, altezza del cilindro. Questo è il volume del cilindro. Se noi lo moltiplichiamo per il numero di elettroni per unità di volume otteniamo il numero totale di elettroni. Quindi N maiuscolo sarà dato da N minuscolo per A per V di deriva per ΔT. Andando a porre questa formula nella numeratore del calcolo che si fornisce I, vediamo che ΔT si semplifica e otteniamo la formula citata in precedenza V per E per N per A. Formula, come detto in precedenza, semplice da ricordare.